Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come personalizzare la propria barra delle applicazioni per avere una maggior comodità e ragazzi basta andare direttamente sul logo di Windows, su Start, cliccare su Sistema, vi ritroverete qui su questa pagina qui potete anche vedere il vostro processore di dispositivo, sistema operativo che avete, tutto potete vedere qui per personalizzare la propria barra delle applicazioni andiamo un attimo sulle personalizzazioni, qui sulla barra delle applicazioni e come potete vedere qui io posso nascondere, apparire così la barra della ricerca, visualizzazione attività tipo le pubblicità che non ci servono quindi io la rimuovo, non mi serve, widget e poi c'è la chat, sinceramente io questa non l'ho mai usata, la rimuovo poi ci sono altre icone della barra delle applicazioni, come potete vedere in basso a destra c'ho Discord e Steam senza che vado qua sopra e li trovo qui dentro, posso direttamente metterli qui sopra posso mettere anche l'applicazione di Logitech, G-Hub, lo metto a fianco a Discord oppure, non so, altre applicazioni che mi servono per adesso mi bastano questi due qua qui possiamo mettere la nostra tastiera virtuale, se avete un problema con la tastiera fisica, questa qua mettiamo questa e lo scrivo, scrivo, faccio quello che voglio, qua la tengo qui poi, comportamenti della barra delle applicazioni qui ragazzi possiamo allineare la nostra barra delle applicazioni come vogliamo tipo a sinistra e torniamo a Windows 10 beh, ormai mi sono abituato al centro poi c'è, nasconde automaticamente la barra delle applicazioni più grande adesso eccola qua, di nuovo poi, mostra barra delle applicazioni in tutti gli schermi io se adesso, io visto che sto usando due schermi adesso se faccio così, sull'altro schermo si rimuove già, si rimuove che posso dirvi di più questa era come personalizzare la vostra, cioè la propria barra delle applicazioni su Windows 11 ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo sia un breve tutorial e vi consiglio di lasciare un like iscrivervi al canale e mettete la campanina ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao